Buonasera e bentrovati, prosegue la caccia all'uomo per ritrovare l'automobilista fuggito dopo aver investito Giusy Caliandro, la donna di 41 anni morta a seguito di questo incidente avvenuto a Gemonio in via Cellina la sera di sabato. La procura di Varese che sta indagando sul caso attraverso i carabinieri ha emanato una nota nella quale mantiene stretto riservo e conferma il fatto di non aver nulla da dichiarare fondamentalmente e questo indica che probabilmente il cerchio intorno a questo automobilista si sta davvero stringendo. Continueremo a aggiornare la notizia evitando altre indiscrezioni che in queste ore si sono fatte largo ma che appunto la procura non ha ancora confermato. Andiamo oltre, parliamo di incidenti sul lavoro, una piaga che ha contato ben sei infortuni mortali in provincia di Varese dall'inizio dell'anno. Se ne è parlato oggi in prefettura con un vertice in cui hanno partecipato tutte le istituzioni coinvolte. Non iniziative spot, bensì un percorso condiviso che faccia tesoro delle buone pratiche e coordini lo sforzo di ciascun attore, obiettivo, a zerare gli incidenti sul lavoro. Ora andiamo avanti con la programmazione delle prossime attività. Dai protocolli a una visione istituzionale concertata che nelle ambizioni del prefetto non porta solo a visioni comuni ma a interventi sinergici e mirati. Il lavoro è tanto importante ma l'obiettivo è uno, quello davvero di innescare dei meccanismi, di portare a valle nel territorio delle proposte per cambiare la cultura sulla sicurezza. Precedenza assoluta all'educazione dei più giovani. Continueremo a fare campagna di sensibilizzazione all'interno delle scuole, questo perché per aumentare il livello culturale rispetto al problema. Un salto di qualità però è richiesto a tutti, lavoratori e imprese, in tal senso la provincia di Varese si dimostra sensibile al tema. C'è molta attenzione, le aziende ci hanno sempre creduto e guardato, non possiamo dire che è stata trascurata la volontà di porre la sicurezza al centro delle attività lavorative. E torniamo a parlare di Via Selene, o meglio di Varese Sud, quella parte che ruota intorno al nuovo comparto S Lunga che è al centro di un'ampia opera di riqualificazione. Una parte di questo ripensamento si è già visto con la nascita del supermercato, un'altra parte non solo è soltanto progettata, ma in parte dovrà essere ancora finanziata. Andiamo a vedere prima di tutto il video virtuale su ciò che dovrebbe essere il risultato finale e che si basa su un rendering voluto dall'amministrazione Galimberti. Dall'altro però aggiungiamo un nostro commento che fa notare come quel video nulla dica di una delle criticità più sentite da chi abita in zona. Ecco la Varese che verrà, quella che ha mosso i primi passi con i lavori legati all'esse lunga dell'ex malerba e di cui un video virtuale diffuso dall'amministrazione comunale mostra le future dinamiche. Si parte dalla nuova uscita autostradale e si procede lungo ciò che ancora non c'è. A partire dalle nuove traiettorie, la pista ciclopedonale, il sottopasso a senso unico e Dulcis in fundo, la nuova via Selene, nervo scoperto per i comitati tuttora sul piede di guerra. Il video, tecnicamente ben realizzato, insiste sulla fluidità della circolazione e l'abbondanza di verde. Andrà davvero così? Non resta che attendere. Ho guardato e riguardato diverse volte il video virtuale che l'amministrazione comunale di Varese dedica al grande progetto di Varese Sud, insomma la completa riqualificazione di uno dei principali ingressi e uscite dalla città di Varese. Ma ho anche notato che da quella proiezione virtuale è stata totalmente esclusa un punto, esattamente questo, anzi per la precisione quello. Andate a vedere il video dell'amministrazione e vi accorgerete che la proiezione virtuale, il rendering, come si dice, si ferma esattamente qui, al cartello che indica il punto di inizio del confine Varese. Per la verità, secondo quel video il cartello è molto più bello, pulito e visibile rispetto a come sia attualmente, guardate con tutte queste sterpaglie e rami che lo rendono quasi invisibile. Si guarda bene però quel video dal fare due passi più in là, si guarda bene cioè dal toccare e dall'affrontare uno dei nodi principali di questo progetto, uno dei motivi per cui i comitati spontanei si battono da anni. Ed è esattamente quella strittoria dove sta passando questa moto in questo momento, perché quella è una strozzatura in cui oggi fanno fatica a passare in contemporanea due automobili. Figuriamoci cosa succede con due camion e figuriamoci cosa accadrà quando questo progetto vedrà la luce definitivamente e quando i camion, dati alla mano, saranno destinati ad aumentare in maniera esponenziale. Lì infatti inizia l'area industriale di Schiano, che è un'area che vede un grande flusso di traffico in entrata e in uscita. I comitati hanno più volte detto, ma tutto questo progetto come fa a prescindere totalmente da un ampliamento di questo nodo? Noi lo abbiamo chiesto ripetutamente all'amministrazione comunale di Varese che di fatto non se ne sta occupando, forse perché non è di sua diretta competenza o forse perché non è ampliabile questo nodo, cioè non è risolvibile il problema. Come faranno tutti quei camion a passare da qui? Sembra quasi banale, ma è assolutamente pratico. Come faranno a non incastrarsi? Come farà una situazione che già adesso con due tir diventa pressoché ingestibile a sostenere il peso di un traffico moltiplicato? Ecco, non è una polemica, è semplicemente una domanda. L'amministrazione comunale, magari insieme a quella di Gazzada Schiano, potrebbe realizzare un video virtuale un pochino più allungato, esteso, che guardi dieci metri più in là e arrivi fin qui? Una bella iniziativa solidale che è prevista mercoledì sera e che raccoglierà fondi attraverso un aperitivo per un'attività che purtroppo è stata duramente colpita da un incendio un mese fa. A un mese dall'incendio che ha colpito la pizzeria Jolly di Via Dandolo, Varese sfodere il suo cuore solidale organizza per il 5 luglio un aperitivo al fine di raccogliere fondi a favore del giovane titolare. Sono stato colpito dalla vicinanza di tutte queste persone, oltre all'aiuto economico che passa in secondo piano è molto più importante l'aiuto psicologico che mi stanno dando, mi stanno aiutando a voler ripartire, mi stanno dando la voglia di ripartire. Un gesto ammirevole che rafforza il senso di appartenenza e scaccia i fantasmi dell'individualismo. Per far capire che siamo una comunità, è un esempio di cittadinanza attiva, nel senso che succede qualcosa a qualcuno di noi e tutti ci sentiamo coinvolti e per questo vogliamo agire. Tra i principali artefici dell'iniziativa le attività vicine alla Jolly, Studio Barugini, Manu Bistrò e l'Associazione Persone e Città che conferma così una delle sue priorità. Presenza solidale e sussidiaria della cittadinanza nelle situazioni reali della città. Non resta che segnarsi l'appuntamento di mercoledì 5 luglio. Dalle ore 18 fino alle 8, le 9, anche se arrivate più tardi non è un problema, noi ci siamo, vi aspettiamo tutti quanti, mi raccomando, numerosi, fatevi sentire. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vede ben 34 progetti e blocchi di partenza in quel di Varese. Alcuni lavori sono già stati aggiudicati per un totale di 110 milioni di euro. Dal polo scolastico di San Fermo all'Informa Giovani, dalla Don Bosco alla riqualificazione di Villa Augusta, passando per la piscina di Villa Miglius al già dibattuto studentato di Biumo e alla riqualificazione dell'ex macello civico. Sono 34 i progetti di Varese finanziati con 110 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'82% delle risorse pari a 110 milioni di euro circa sono state aggiudicate o sono prossime all'aggiudicazione e oltre il 73% dei lavori di questi 34 progetti sono in corso di aggiudicazione. Abusto e Sizio in via Galvani per una notizia che fa discutere. Disagi in via Galvani e Abusto per i lavori di asfaltatura. La strada che collega Corso Italia a Piazza San Michele è nota in città perché spesso teatro di incidenti, in particolare all'incrocio con Via Isonzo, dove anche questa mattina a inizio lavori non sono mancati rallentamenti, ingorghi, code e caos, soprattutto a causa dei soliti automobilisti che nonostante la situazione, pretendono di evitare la fila. Il calore delle asfaltatrici e dei tubi di scappamento dei camion fanno il resto, sommandosi all'aria già pesante della stagione, inerbosendo i residenti che non vedono l'ora che tutto finisca. Medaglia al valore civile, quanto è stato consegnato ufficialmente in una cerimonia di ieri mattina alla famiglia di Laura Prati, la sindaca di Cardano al campo che dieci anni fa moriva a seguito delle ferite riportate in una tragica sparatoria innescata. da un uomo poi finito in carcere, appunto in municipio. Insieme a lei c'era Costantino Iametti, allora vice sindaco del comune, gravemente ferito, ma poi ristabilitosi. Anche lui era presente alla cerimonia insieme a tante autorità, a partire dal prefetto Salvatore Pasquariello, il governatore Fontane, presidente della provincia Magrini. Una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Ancora oggi il volto di Laura e tutti noi che hanno conosciuto lei e seguito molto da vicino quella tragica vicenda, lascia un segno. Proseguiamo con un politologo ungherese che nei giorni in cui il dibattito internazionale più si focalizza sul ruolo dell'Ungheria in termini di migrazione, partecipa a un incontro culturale proprio a Varese. Lo abbiamo intervistato. Riflette sulla guerra e sui rapporti tra stati, sulle radici europee, sulle affinità tra governo ungherese e italiano e su una campagna mainstream che tende a demonizzare paesi come il suo, oscurandone il ruolo in termini di accoglienza e autentica integrazione. Mishikovac, in patria, è politologo e studioso di rapporti internazionali e la sua visita a Varese, ospite del circolo Cadio Berlík per l'intervista con Max Ferrari, avviene nel pieno del dibattito comunitario sulla distribuzione dei migranti. Ogni paese ha il suo diritto di decidere con chi vivere e con chi non vivere, quindi praticamente il tema riguarda l'essenza della libertà di una nazione, l'essenza di essere un paese sovrano. Questo non significa che l'Ungheria non sarebbe solidaria alla gente che ha la speranza di migliorare le sue situazioni, però in sé stesso migrare, secondo la posizione ungherese, non è un diritto. Quando si tratta dei profughi, ovviamente di guerra, è un'altra cosa. L'Ungheria ha dimostrato grandissima solidarietà, però in questo caso si tratta dell'essenza della sovranità. Premier Meloni sottolina che si deve garantire il diritto di stare, quindi dobbiamo portare l'aiuto dove c'è la necessità e non portare il problema alle nostre case. Sul bavero della giacca notiamo una spilla significativa, mostra la continuità tra le bandiere ungherese, polacca e italiana. I nostri paesi, insiste, sono in prima linea per la difesa di valori che altri europeisti a parole in realtà tradiscono. Sono loro chi difendono le radici, la vera Europa, le vere voci d'Europa. Quando la letteratura e la cultura più in generale possono fare del bene? Se ne è parlato a Varese in Rosa con una editrice di Bustersizio. Il brand Activist nasce da una mia idea di qualche anno fa quando sono stata invitata per il patto della lettura. Il ministro aveva chiesto librerie, biblioteche, editori di organizzare dei programmi per incentivare la lettura. Allora io mi sono detta, certo, incentivare la lettura a un lettore è facile, se ti invito in libreria o a un circolo di lettura, chi legge ci va. Io invece mi sono rivolta a un pubblico di non lettori. Con la ferma convinzione che la letteratura classica va da lette e la consapevolezza che i grandi autori hanno spesso scritto anche opere brevi, Cristina De Piante ha scovato in tutta Italia coppie di amici piuttosto che di parenti di non lettori e ha chiesto a uno di loro di leggere a voce alto uno di questi libretti e a un altro di trascriverlo, con il supporto poi di professionisti dell'editing arrivando a stampare un centinaio di volumetti, ma non solo. Sono andato da chi oggi gioca un ruolo importante nel mondo dell'arte e ho detto leggiti anche tu, quindi ho fatto leggere anche gli artisti e in base al racconto poi tu disegni la copertina ed è nato il bouquet. Il bouquet è un facilitatore, dal momento che tu ricevi questo libro diventi anche tu attivista, quindi noi diffondiamo questi libri, questi facilitatori, principalmente li offriamo alle aziende, agli imprenditori che potrebbero introdurlo nell'azienda come marketing umanistico, quindi come un progetto, un programma da mettere anche insieme al pacchetto welfare che hanno le aziende o ad associazioni. Sempre a busto sul fronte culturale per parlare di aperitivi con una marcia in più. Gli aperitivi cult sono delle iniziative sempre legate al mio movimento di brand attivi sculturale, quindi diffondere cultura in maniera insolita e inaspettata, portando i libri in un circuito differente dal classico della libreria. Di qui l'invito nell'Oggiato dei Pianti, in via Zappellini a Bustarsizio, dove tra qualche bollicino e uno stuzzichino per diffondere la cultura in modo leggero, quest'estate nel verde sbocciano tante conversazioni che nascono tutte da un buon libro. Sta andando molto bene perché già siamo alla seconda serata. Il prossimo appuntamento è il terzo, dopo settimana scorsa abbiamo avuto Rilke, quindi Davide Brullo e Giorgio Anelli che hanno parlato di poesia. Questa volta è, a mio avviso, interessante soprattutto per chi ama gli animali perché ho invitato Paola Tonussi che ci racconterà il processo degli animali contro l'uomo. Lo sport ci porta in casa della pallacanestro varese perché questi sono giorni decisivi in chiave internazionale. Sale la febbre europea in casa pallacanestro varese. I biancorossi nella giornata di mercoledì 5 luglio conosceranno le avversarie e la formula del girone di qualificazione per accedere alla prossima Basketball Champions League. Le partite di qualificazione si giocheranno dal 25 settembre al 1 ottobre, mentre la regular season della competizione inizierà il 17 ottobre, con lo stesso formato delle stagioni precedenti. 8 gironi da 4 squadre, ciascuno le vincenti dei quali passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e le terze classificate andranno alla Play in Series di gennaio. Sempre a gennaio inizierà la fase girone degli ottavi di finale, che porterà le 8 squadre rimanenti ai quarti di finale di aprile, mentre le Final Four si svolgeranno a maggio. Insomma, si torna a parlare di Europa in casa biancorossa ed inevitabilmente le ambizioni e l'attesa salgono per tutta la pallacanestro varese, che sul mercato, tra la conferma di Markel Brown sempre più vicina e l'assalto a Giordano Bortolani, inizia a costruire il proprio futuro, con uno stampo sempre più internazionale. Come promesso andiamo a vedere più da vicino l'esito di una straordinaria manifestazione chiamata Junior Sport. Prima con la classifica definitiva dei tornei sportivi e poi con una riflessione dedicata ai veri protagonisti di questa bellissima Kermes, i volontari. Si chiude in bellezza Junior Sport, manifestazione agonistica e culturale, sociale, educativa, aggregativa, che quest'anno ha visto in aumento il numero di tornei e giovani partecipanti. Ed ecco la classifica finale. Nel calcio si impone la squadra delle bimbe in nero, seguita da Falegnami e Gaviran Angels. Primi nella pallavolo Oslab, secondi Jump and Spritz, terzo posto per sbattimi in panchina. Pallacanestro, medaglia d'oro agli Zingarams, argento ai Partisan, bronzo ai Los Angeras. Nel beach volley vince Jump and Spritz, seconda è il Papu, terza Bombastic. Arrivederci all'anno prossimo, quando Junior Sport tornerà ancora più ricco e più partecipato. Al di là delle classifiche e dei trofei, i veri vincitori del Junior Sport sono loro, volontari e organizzatori, artefici di quei tasselli che messi insieme, segnano l'unicità popolare collaudata di una manifestazione bellissima. Pratico il Junior Sport da tre anni e l'organizzo da due. Quest'anno ci sono stati tornei di Open Pallavolo, Beach Volley, Calcio e Pallacanestro. Per noi è comunque un'esperienza particolare perché siamo sia giocatori e sia comunque ragazzi che sono cresciuti in oratorio. Quindi per noi è sempre un piacere, un onore e lo facciamo con piacere. Sì, ormai da un po' di anni che molti ragazzi frequentano e il livello è sempre altissimo. Abbiamo giocatori che vengono da Serie D, Serie C, Serie B, anche ex A2. Quindi siamo contenti del livello, è sempre altissimo e viene un sacco di gente. Non solo sport naturalmente, Gavirate ha accolto dibattiti e mostre, convegne, raccolte fondi, momenti di riflessione e confronto, una grande occasione di incontro e condivisione. Abbiamo messo libri di sport, religiosi e anche questa sera, ultima serata di Junior Sport, siamo qua presenti con il nostro banchetto. Siamo contenti, speriamo di riproporlo all'anno prossimo e tutto questo fa parte comunque di un vasto programma di sport e di cultura con mostre ed incontri che ha caratterizzato questo Junior Sport del 2023. Ma cosa spinge tante persone di ogni età a mettere a disposizione tempo, energia e sforzo per l'intera comunità? La risposta è semplice, spesso è più bello dare che ricevere. Perché qualcuno ci ha insegnato prima di noi a fare questo gesto e quando ci è stato chiesto di prendere un po' in mano noi l'organizzazione non ci siamo tirati indietro e abbiamo detto perché no? È semplicemente un momento in più, un passo in più. È un impegno sicuramente faticoso ma ci piace, vediamo un sacco di gente, ci divertiamo a farlo e quindi questo è quello che conta. Diamo il nostro tempo ma allo stesso tempo ci divertiamo e portiamo a casa qualcosa. Junior Sport ha dato spazio anche all'impegno sociale e alla più nobile delle missioni, la pace. Avsi vuole sostenere dove è possibile costruire luoghi di pace proprio a partire dall'Ucraina dove appunto sostiene dei centri di aiuto, le famiglie, i bambini poi con adozioni eccetera. Io mi fermo qui, il TG torna domani. Grazie e buona serata a tutti. A tutti una buona serata. Le previsioni per domani e martedì sarà una giornata probabilmente simile a quella odierna con temporali nella prossima notte e residue piogge di primo mattino. In giornata sarà piuttosto variabile, solo in parte soleggiato e ancora con possibili temporali soprattutto a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Le temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi comprese tra 26 e 20. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.